SafeGate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito. www.safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questa domenica avremo un netto aumento della nuvolosità su tutto il centro e il sud ad opera di infiltrazioni umide nordatlantiche che però non porteranno particolari fenomeni a più qualche rapido piovasco nelle aree interne appenniniche del centro Italia. Più stabile e soleggiato al nord. In Abruzzo sarà un weekend inestabile, avremo tanta nuvolosità però fenomeni davvero irrilevanti. Qualche piovasco possibile nelle aree interne, specie l'aquilano meridionale e nel vastese però fenomeni molto irregolari di debole entità concentrati per lo più tra il pomeriggio e la sera, tante nubi altrove, pochi sprazzi di sole per lo più nelle ore pomeridiane. Le temperature sono attese in calo a causa di questa nuvolosità diffusa massime tra i 9 e i 12 gradi, minime piuttosto alte, quindi avremo un'escursione termica tra giorno e notte quasi inesistente, minime tra 4 e 10 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. SafeGate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi Igiene e sicurezza sempre e ovunque Visita il nostro sito SafeGatePro.com Igenizzare le persone, gli ambienti e sicurezza sempre e sicurezza sempre e sicurezza sempre che